Mi ha fatto cadere ed è fuggito. Non ho potuto fare niente. Mi dispiace. Perché non volevi vedermi? Perché mi vergognavo a guardarti negli occhi dopo tutto quello che ti ho fatto? Sul serio non so che mi hai preso, Guzman. Ti giuro che non mi sono mai fatta confondere dai miei sentimenti. Lo so che ci sarai sempre per me e voglio fare lo stesso per te. Tu in realtà ami Samuel. No, non è vero. Lo capisco. No. Ho letto il messaggio che gli hai scritto. Per questo sono venuto a cercarti. Perché me lo dicessi guardandomi in faccia. Ma va bene così. Perdonami per tutti i brutti momenti. Spero che quelli buoni siano stati di più. Abbi cura di te, Ari. E così è finita. Addio. Addio. E così è finito. Grazie a tutti.